Suo atto è la preghiera che noi premettiamo qui nella stanzetta che è stata pronta prima di venire qui. Signore, ci ha fatto spettere una parola trabicizia. Ci ha ricordato alcuni testi un testo del Vecchio Testamento dove si dice chi ha trovato un amico ha trovato un tesoro e l'altro testo che si illumina non tutti gli amici sono veri amici ci sono amici di nome e amici di fatto per cui il distendimento o una testa nel distendere la pena tanta amicizia e poi c'è un altro testo del Nuovo Testamento quello che dice no io non preghiamo più servo ma preghiamo amici perché tutto quello che ho udito dal Padre lo faccio conoscere a voi. Forse il Signore ha voluto invitarci attraverso questi testi che l'amicizia è un grande bene un grande tesoro che noi dobbiamo custodire è un'amicizia con Dio e un'amicizia con gli uomini entrambe queste amicizie sono buone c'è invece una amicizia cattiva là dove il Signore dice chi vuole essere nemico di questo posto è nemico di mio per cui c'è una amicizia cattiva che evite l'amicizia buona qual è l'amicizia con Dio. E ciò per il momento focalizziamo questo argomento portato alla riparta dal Signore Centro durante la preghiera perché voi sapete bene che noi scegliamo noi l'argomento della catechesi quella che premettiamo alla preghiera ma il Signore ci dà delle indicazioni e su queste indicazioni noi parliamo facciamoci di la scabia dello Spirito. E anche un tema poi ci introduce nella preghiera e allora focalizziamo un momento questo amore di amicizia che questo tra noi è Dio è qualche cosa di meraviglioso una cosa inaudita che Dio così grande è un Dio onnipotente o di scendere o di felice d'attività stringa vera amicizia con l'uomo che vuole così debole così fragile così povero così peccatore non si ne gravi signore se stringe l'amicizia con noi ecco la prima domanda non si ne prime luogo per stupire l'amicizia di un Dio così grande e così tanto certamente la amicizia avviene tra due persone uguali e bene proprio questo a parte signore dite bene che l'amicizia o trova uguali o fa uguali non si l'amicizia tra due persone si sono uguali ecco perché quanti signore la amicizia con l'uomo si come l'uomo e il volto fino alto nel l'uomo scende al grado dell'uomo e siccome lui ama l'uomo lo porta su al grado suo ecco il ostento dell'amicizia di Dio lo fa di scendere fino all'uomo e fa portare l'uomo fino al suo grado fino alla tua altezza in modo che ci dia una uguaglianza tra tia e l'uomo tra i tuoi amici non ti puoi trattare di uguaglianza appisciò dell'amore di Dio chi glielo può fare al Signore e siccome l'amore di amicizia è un amore gratuito non è un amore interessato è anche un amore di istinto appassionale lo accenso almeno ma è una petizia di scelta Dio ti veramente è certo proprio tra tutte le creature possibili lo ha fatto poco meno degli altri anzi di il pezzo originale lo hai fatto eroismo Dio poco meno di eroismo perché eroismo è nessuno lo hai fatto poco meno di Dio Dio codice il uomo come amico e quando l'uomo tradisce la amicizia con Dio Dio non rinuncia ad amico l'ordine per cui la predizione la incarnazione del verbo è opera della amicizia di Dio Dio per stabilire la amicizia rotta con uomo batte il suo figlio il quale si roba per noi per stabilire la amicizia per per carenzirsi vedete un po' per carenzirsi da un altro tradimento che l'uomo potrebbe fare cosa ha fatto questo buon Dio avvento niente di meno che l'amore stesso dentro di noi ha detto lo spirito dato la terza persona tantissima fredda quella che congiunge padre e figlio l'ha perso dentro di noi per cui timora dentro di noi e diventa come diceva la madonna per passo qualche giorno fa la sfida tanto diventa il palaclito e chiedava la madonna sei il compagno del vostro capino anche questo senso ha la parola palaclito il compagno del vostro capino colui che accompagna e cigarettisce l'amicizia con il Signore vedete quanto il Signore ha fatto per garantire questa amicizia per tenerci sui amici Gesù diceva io non picchiamo più terri ma picchiamo amici con di piacere chi mi ha amici ed io vi rivelo tutto quello che mio padre mi dice tutto quello che so ve lo dico ecco un'altra nota dell'amicizia lo ti doto dei crenti tra amici tra amici se dice tutto di un'uguaglianza per quanti tirati tu perché noi chiediamo questione col tu non diciamo di regna signore chiedi quest'angelo fu faceva natura e bene voleva fare la coppia la televisione e al teatro chiamava lei Dio ma noi chiediamo Dio quasi molto con voi ma l'eventività chiedi sto a Dio come Dio dai sto a tori dove c'è un'uguaglianza molto un'uguaglianza c'è questa caratteristica che Dio ci dice tutto e noi diciamo tutto Dio ci dice tutto ecco la rivelazione perché Dio si rivela perché Dio crede attraverso i bibliografi tutto quello che Dio ti dà e vuol fare perché Dio rivela i suoi progetti all'uomo appunto perché l'uomo è suo amico tutta la rivelazione si spiega da questo fatto che Dio è amico nostro e ci dice tutto di sé non ci vuole da scoprire tutta di te è chiaro che non possiamo comprendere tutto e Dio ecco perché tutto è graduale e ricordate quello che vede Gesù ecco io repatterò il mio spirito che è spirito di verità e mi ricorderà tutto quello che vi ho detto adesso non potete comprendere tutto non c'è la parità a comprendere tutto e pure io voglio rivelarvi tutto però quanto vi darò spinto di verità che io vi matterò e gli diterà tutta la verità tutta la mia verità perché gli prese del mio e ve lo annuncia già nel Veste del Samento il Signore quando tratta con gli amici rivela tutto se un bel testo sia bravo bene che prima decide di distruggere sove per color e allora io parla le tre persone che vengono introdotte come in un colloquio e io dico in questo senso ma mi pare giusto che noi distruggiamo sove per color e non picchiamo niente di questo progetto che abbiamo al nostro amico bravo ma non è giusto non è conveniente è giusto che glielo diciamo ed è così che Dio scuette e ne passa da bravo ha questa confidenza da bravo perché ha bravo il suo amico e un altro senso dei provvedi dice che Dio capo a che cosa pensa prima rivelarlo ai suoi amici di provvedi no tutto quello che Dio vuole fare prima lo rivela ai suoi amici ai profesi e parla con loro perché sono amici ecco perché Gesù dice tutto quello che ho dito dal padre mio ve lo faccio conoscere perché voi siete i miei amici quindi Gesù si fa la scelta dell'amicizia ecco qua quello che diceva al principio non è tentata l'amicizia con una inclinazione come può succedere tra di noi se questo è un'amicizia carnale se questo è un'amicizia di simpatia Dio non ha questo grado di amicizia Dio ha un'amicizia di volontà libera sempre quelli che vuole come siete amici quanti è anche la nostra amicizia è una amicizia di libera scelta voi siamo stati scelta Dio non voglio mettere scelta me ma io scelta voi noi chiamo gli amici che Dio ci è certo e dobbiamo essere grazie Signore ma quale benito avevo fatto noi andiamo benito per essere scelta da Dio Dio scegli chi pare tante volte scegli più ubbili sceglie trovi terapidi anche questo è nello stile di Dio ricordate quello che dice il Signore Gesù esultato nello spirito d'atto padre mi ringrazio e ti benedico perché hai nascosto queste cose e i grazie ai sapienti ai dottoroni di questo offro e li hai rivelati i piccoli perché così è chieduta a te e continua a scegliere le viste vove per scegliere tra i più miserabili sono i miti di gormili e i prene negati di Dio dice un pezzo di Micea su chi porterò lo sguardo sull'umine sul contrito di cuore sul povero posse il mio sguardo di amore e lo scelgo perché il Signore di Cienza Maria la più grande tua amica perché era la più povera di tutte le creature e gli ha guardato l'umiltà della tua serba e li ha scelto e come tutte le generazioni li chiameranno peato e gli ha guardato che lo riguardo di Dio come tutte le creature che è posato su di me e diventata l'amica di Dio la predilezza di Dio William l'amica di Dio manchiamo i amici di Dio ma sarebbe questa sola verità per renderci sommamente gioiosi quando non possiamo contare sugli amici della terra apriamo un amico potente di Dio e se noi consigliamo questa amicizia così Dio che fedele non si tradirà e intorno in lui saremo anche noi ecco la bella nota dell'amicizia gli amici vogliono stare sempre insieme anche nelle cose umane questo succede potente raggiare si amano è un amore reciproco vogliono stare sempre insieme gli amici si amano vogliono stare sempre insieme si spartano la notte ecco si dividono la notte per dire che vogliono stare sempre insieme ecco c'è capire con noi e allora dirgli come facciamo per stare insieme e allora gli amici guardi sono due amici e allora tu sei in casa mia o in casa tua io in casa tua ho chiuso in casa mia ma in questo dobbiamo stare sempre oggi mangi tu da me sabere mangio io da te domani tu da me e o domani io da te perché dobbiamo stagliare insieme stare e così faccio io che cosa faccio ma voglio stare con noi e allora che cosa faccio per stare con noi ma fate un piracolo d'incarnazione l'incarnazione è il piracolo di sacro e l'opera più grande di io superiore alla creazione cosa fate io voglio stare con voi e allora il figlio di dio che ha con te il padre e ha con te lo finito ci va uomo e in casa cre avete tutti noi in sé e noi siamo il suo corpo vedete un po' che roba che roba è diventiamo il corpo di dio il corpo di dio e vicinanza non gli può essere anche nell'abeticia degli uomini non ci diventa mai il corpo dell'amico di che possono essere ogni dio di corpo ma non ci può essere il corpo stabile invece noi siamo il corpo di dio il corpo di cristo il corpo dello spirito che abita con noi di abita nel corpo mistico e abita in ciascuna di noi so sapete che voi siete il tempo di dio la demora di dio che vi abita nei nostri corpi mortali noi siamo le membra di dio e cosa pure bezza quanto questa amica gli aspettatori che noi diventiamo membri di degli altri queste cose abbiamo passato un tempo perché è una amicizia di dio si sa per la nostra amicizia che dì vuole che noi abbiamo ovunque l'amico vuole stare con l'amico e allora cosa va dire prima che sta con noi che siamo pellegrini in questo posto poi lui si porta con te per cui la morte è un volo di dio è un andare nella casa del padre e la morte che è la cosa più tremenda per noi che noi tanto temiamo è anche tutta insubordente di cattivonia come noi la immaginiamo diventa un'amica che ci porta a Dio e attraverso la morte che noi amiamo a Dio e quando noi moriamo che gioia questa del padre ci troveremo davanti il padre il figlio lo spirito ci troveremo la padone e gli angeli che si accorgono nella casa del padre diceva Gesù io pregato il padre io vado avanti adesso vado avanti per trovare risposto un nome che dove sono io siate anche voi per cui dove è Dio poi un giorno saremo tutti ecco il motivo del paradiso il motivo del paradiso non si è stato un premio che ci dà noi bene buone opere no è ottimo inventato dal Signore per stare con lui per sempre nella sua gioia della sua felicità a godere con lui a mangiare bene con lui il vino che nebria ecco io non berlo più di questo su con la narizie in argomenti in cui io berlo nella casa del padrino e il libro della felicità questa è la amicizia che Dio ha fatto con noi e queste sono le note della amicizia che dobbiamo anche ritrovare nella amicizia tra noi perché la amicizia di Dio è una amicizia chiusa è una amicizia aperta e Dio vuole che noi siamo amici tra di noi vuole che noi sappiamo dello stesso modo con cui Dio è chiamato e con cui noi abbiamo Dio vuole Dio amato noi che vuole che noi chiamiamo tra di noi e siamo tra di noi una cosa nuova come lui è una cosa nuova con noi di fin amicizia nostra che è una meta da raggiungere da attuare giorno per giorno tante volte noi guardiamo con uno sguardo corso alla amicizia guardiamo corso spesso la amicizia e alle volte abbiamo una dimensione troppo umana alla amicizia quasi che la amicizia con le persone ci privi della amicizia che io possa avere con me la persona la amicizia divina l'amicizia cristiana e l'amicizia aperta a tutti e l'amicizia che ha coraggio e ha un unico contamento la volontà di Dio quando noi rimaniamo nella volontà di Dio allora noi siamo amici tra di noi e nel lavoro di amicizia come si tratta di amore di carità non c'è mai basta io non amo sufficientemente il mio fratello il mio amico quanto Dio vuole che lo ami io amando il amore che mi dice il fratello la donessa resto sempre alti sotto di quello per favore che il mio nome frate sempre ha chiuso ti fatti cosa dice la scrittura chiuso qualcuno non ami il suo fratello come lo amato Cristo non è nevole di Cristo che che per Cristo amato noi fino a dare la sua vita per noi anche non dobbiamo essere disposti a dare la vita per i fratelli la amicizia comportamento che dobbiamo essere si forti a pulire per il fratello e che arriva a pulire per il fratello nessuno nella linea ossia e pure questo vuole insieme perché questo è il colma grato del frattore e il colma di amicizia che riuscino come quello che è stato dato da Dio come Dio ha amato noi così noi dobbiamo amare i propri fratelli e come Dio si ha fatto amico nostro e noi siamo diventati amici di Dio così riuscando nella stessa volontà di Dio potriamo amarsi gli uni gli altri e ci troviamo tutti nella volontà del Padre quella amicizia che dice tra noi e Dio deve coincidire tra noi e quelli che so Dio e allora fratelli voi scordi mi darebbe molto lungo amiamoci con sincerità di amore sincero tenero le ave come dice da Pietro di un amore che parte dalla mente scendere al cuore sale alla bocca e ti insegne nelle mani c'è un amore che ci preste totalmente questa è la vera amicizia conservato per l'unico portamento che è quello della volontà di Dio tutti tutti quelli che si ritrovano nella senza volontà di Dio si ritrovano nella senza amore di Dio ed è nella amore di Dio che diventi amici di tutti gli altri questa è la amicizia di cui parlano le scritture che ha trovato un amico ha trovato un tesoro questa è la amicizia di parte di di amico e parte amico non c'è un amico di interesse spese a noi non si può essere ma la nostra amicizia è portata in Dio e da tutti i contotati della amicizia divina gloria al Signore benedizia al Signore che si è fatto amico nostro e cerchiamo di essere amici con noi ma amici bene amici bene no amici affettati e non devo dire gli altri che vengono amici amici e non do 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 essere così attorno dati quando vediamo uno che ama il fratello anche lo sappiamo godere quando vediamo un fratello che ama un fratello lo sappiamo godere quando dimostra questo amore quello di Dio sappiamo godere perché è il Signore che in quel momento costruisce queste due persone è chiaro che non vuoi essere un amore chiuso ma un amore aperto magari tutti che amassimo enelamente sinceramente realmente magari tutti che spartissimo il sonno magari tutti avessimo tanto amore da volere di stare sempre insieme questo vi avverrà soltanto in cielo ma infatti possiamo realizzare il cielo qui in terra amassi gli un gli altri del nostro gruppo facendo lega fraternità amicizia lega tra di noi alleluia che che detto che questo moto non può essere a picco miglior perché non c'è nulla più come tra me e il mondo, non ci sembra niente di comune tra voi e il mondo. Ma io non ripeto, chi vuole essere amico di questo mondo non vuole essere amico di Dio. Ora guardiamo di te. Fermo questa lettura con un altro testo invitato, Signore, dove si ripete lo stesso insegnamento Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio che tornava, si alzò da tavola e, forse le vesti, prese un asciugatorio, si era cinchi attorno alla vita. Poi versò nel l'acqua del capino e cominciò a cavare gli anni di Dio e per aiutare gli anni, 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 e voi sapete ciò che ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore di Devere, per voi io lo sono. Secondo, quindi, Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi. Io vi ho dato il fatto esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. E' parola del Signore Giovanni. Signore, ti ringraziamo di questi due testi, del testo di Luca 22 e del testo di Giovanni 13. Ma tu ci dai questo sorrivo insegnamento, come bisogna essere amici. Tu sei il vero amico e ci hai dato l'esempio di come dobbiamo amare gli uni gli altri. Come ho fatto io, così fate anche voi. E' come io ho lavato voi i piedi, così anche voi dovete lavare gli uni gli altri. Ma Signore, tu vuoi che noi ci serviamo? I uni gli altri. E' poter stare le reazioni più le dite. E' perdonati, c'è debole. Vedi che togliere al suo testo quello che ti importa c'è in questi piedi. Con umiltà, davanti a noi i piedi, trostati per terra davanti a noi. E' poter stare le reazioni più le dite. Grazie. Per davanti a noi i piedi, i miei uni gli altri. E' messa del sotto vento, i miei uni gli altri. Grazie oh Signore Gesù. il Signore ci invita con questo messaggio a non tradire mai l'amicizia chi tradisci a un amico tradisci il tuo crede l'amico e ha dato il suo amore a te attraverso il cuore la poca e la mano dell'amicizia Signore buona la revertà a lui o Signore noi ti ringraziamo di questo avvertimento di non tradire l'amicizia noi vogliamo tradire a te che sei l'amico sincero e anche vogliamo tradirci tra di noi perché tradendoci tra di noi tradiamo te l'unico vero amico che hai amici me e il mio fratello me e la mia fratello gloria e gloria e la figlia e noi il Signore ci esopera a dichiararsi che hai amici gli uni degli altri ma loro in vita se sei lontano io non posso fare amici con quelli di qua se qualche persona ci dice io non posso essere amico perché rimani sulla soglia che dice il Signore e anche tu perché anche tu sei nostro amico e allora per darci un segno di amicizia una volta che Dio ci ha trovato amici e noi ci troviamo il credito e amici e cocineremo tutti la mano e cantiamo al Signore il nostro amore cantiamo la nostra amicizia in Lui non siamo più soli nella vita siamo amici tra di noi ecco crediamo prima di cantare quest'ultimo testo un amico fedele è una protezione potente chi lo trova trova un tesoro per un amico fedele non c'è prezzo non c'è peso per il suo valore un amico fedele è un pazzo di vita vuoto del atto quasi temono il Signore che teme il Signore il Signore il Signore per la sua amicizia perché come un ure così sarà il suo amico e parola di Signore e la sua amici e adesso noi ci siamo amici per l'amici per l'amici per la mano e cantiamo il nostro amore per l'amici per l'amici